Sì, sì, abbiamo fatto 74 punti, quindi nulla da recriminarci, anche perché i punti sono quelli, loro ne hanno 74, noi ne abbiamo 74, siamo arrivati i primi come loro, purtroppo il calcio è così e si contano gli sconti diretti, quindi ci prepariamo subito per affrontare domenica una partita importante contro la Juve Stabia, che è un'ottima squadra, e già da martedì inizieremo a preparare questi play-off perché sono importanti e ci crediamo ancora. A fine partita si è notato un po' di rammarico, però insomma il pubblico è con voi, sa che avete fatto una grande stagione, questo rimane indubbiamente? Ci sta un po' di rammarico perché comunque sai che sei arrivato prima ma non hai vinto, quindi fa piacere tutti gli applausi del pubblico, erano tantissimi oggi e siamo riusciti a riempire lo stadio finalmente. Credo che da gennaio fino adesso il pubblico si sia fatto sentire, quindi il ringraziamento va anche a loro, giustamente se lo aspetta. Nello spogliatoio a fine partita cosa vi siete detti? Come era il clima? C'era un po'... testa bassa no, perché comunque sappiamo che abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, ci sta un po' di rammarico però lì si gira pagina e ci sono i play-off, c'è una partita importante domenica, non bisogna più pensare a Novara, a punti di penalizzazione, agli stessi punti che abbiamo vinto, niente, c'è la Juve Stabia, basta. Con la Juve Stabia comunque rimane il fatto che il Bassano se la può giocare apertamente, tranquillamente. Ma io credo che il Bassano, dopo quello che ha fatto vedere quest'anno, se la possa giocare con tutti, senza alcun timore. Sì, perché per Monti c'era Amarico, ma in realtà adesso comincia un altro campionato, il Bassano può ancora e deve sognare a questo punto. Certo, abbiamo tutto il diritto di farlo anche perché, sì, Monza è andata come è andata, però abbiamo subito voltato pagina, oggi si arrivano i tre punti e li abbiamo portati a casa. E ci andiamo a giocare questi play-off perché, sì, è un altro campionato, ma abbiamo fatto 74 punti, quindi anche un po' gli altri dovranno preoccuparsi di noi, credo. Daniel Semenzato, il tuo quarto gol in campionato è valioso solo per le statistiche, un gol che vale per te, una stagione strepitosa. strepitosa, non basta il Bassano per andare in Serie B direttamente. Sicuramente contento, però fin là sapevamo oggi che noi dovevamo fare i tre punti e che forse non sarebbero bastati. Ci tiriamo sulle maniche, guardiamo in alto, avanti, mai mollare, ci prepariamo per domenica e sarà dura. A livello personale rimane il fatto che hai fatto una grandissima stagione, insomma, adesso conterà poco, però bisogna ricordarlo comunque. Sì, già l'anno scorso avevo fatto una bella annata, quest'anno sono riuscito a ripetermi, quindi, come dici tu, alla fine, sì, soddisfazioni personali, basta. Adesso arriverà la Juve Stabia domenica prossima, una partita che sarà molto dura, comincia un altro campionato. Adesso sì, è tosta a qualsiasi squadra che troveremo, sarà da battaglia, bisogna essere pronti, carichi più che mai e essere più forti di loro. Magari potrebbe servire a mandare giù il boccone amaro che avete rispettato la settimana scorsa a quello di battere la Juve Stabia? Noi siamo qua, siamo arrivati fin qua, quindi non dobbiamo più guardare indietro, dobbiamo solo guardare avanti. Un'ultima battuta su questo pubblico che vi ha sostenuto sempre, è venuto numeroso anche oggi, insomma, vi ha sempre accompagnato, questa è una bella cosa. Direi fantastico, niente da dire, anzi, speriamo anche che le prossime siano ancora più numerose, per darci ancora più forza. Stefano Petri Biasi, quattordicesima rete, come l'anno scorso, un campionato che termina prima in classifica senza la promozione diretta, insomma, un buon campionato comunque. Sì, alla fine è un ottimo campionato, insomma, arrivare all'ultima giornata a giocarsi comunque la promozione diretta, penso che sì, non ce l'aspettavamo neanche noi. Ovviamente è strada facendo, abbiamo visto che potevamo starci e penso che meritiamo comunque questo primo posto comunque in cocomitanza secondo Vara. Peccato per comunque sì, gli scontri diretti che magari potevano darti la mano e dopo, insomma, come sapete, il discorso insomma burocratico e quello ovviamente a noi interessa poco da giocatore, insomma, leggi i giornali, leggi un po' le interviste, le cose, ma non ci deve interessare, peccato. Comunque è stato un ottimo risultato, adesso ci giocheremo il playoff, comunque entri nelle squadre comunque più forti d'Italia, dai, ci sono squadre molto bella zonata e per Bassano penso sia comunque soddisfazione, no? Sia per noi, per la città e proveremo a giocarci comunque le nostre chance per andare in Serie B. Una soddisfazione che si è vista tutta, il pubblico vi ha incitato all'inizio della fine e anche al triplice fischio finale, insomma, ha continuato ad incitare. Questo è un bel segnale da parte della tifoseria? Ma sicuramente, abbiamo visto che di domenica in domenica insomma cresceva l'entusiasmo, ovviamente grazie a noi in campo perché i giocatori insomma sono i protagonisti principali del gioco e comunque ringraziamo i tifosi, anche oggi tanti bambini, tanti ragazzi che ci hanno sostenuto. Ovviamente ci sta che magari insomma verso fine partita l'umore era un po' magari basso perché magari tanti sapevano un po' il risultato dell'altra parte ma alla fine l'applauso finale comunque è soddisfazione per noi perché abbiamo fatto come detto una cosa importante, non è ancora finita. Quindi ci deve dare anche comunque modo di ricaricarci e già domenica c'è una gara importante quindi vogliamo passare il turno. Juve Strabia che è una squadra quotata ma che insomma un passando come questo ormai può affrontare chiunque. Ma sicuramente squadra quotata che ha fatto la Serie B insomma non la conosciamo certo oggi però sai sono partite secche e quindi lì oltre ai valori tecnici ci vuole fortuna, ci vogliono tante cose, comunque anche il morale, anche il livello fisico come ci si arriva. Ovviamente si gioca già domenica quindi è una cosa positiva secondo me perché magari gli altri anni c'era la sosta e quindi magari potevi magari perdere un po' adesso giochi già domenica quindi abbiamo modo di prepararla bene e quindi giochi anche in casa e sarà comunque importante il fattore campo speriamo sempre nel pubblico che penso verrà numeroso e ce la giocheremo già da domenica. Un'ultima battuta sotto il profilo personale, puoi dire di aver vinto due campionate di fila, questo insomma non è da poco. Ma sicuramente, sicuramente ogni tanto penso a due anni fa che sono arrivato qua ad agosto che c'erano poche certezze anzi c'erano le certezze che qua si chiudeva tutto e quindi tanti punti interrogativi eppure siamo arrivati adesso quasi due anni comunque a scrivere un bel pezzo di storia per Bassano anche se non è ancora finita quindi questo mi rendo orgoglioso personalmente ma penso tutti. Antonio Nostra, il Bassano di fatto vince il campionato a pari punti con il Novara, non basta per andare in Serie B ma adesso insomma i playoff si affrontano in maniera positiva sapendo che questa squadra c'è comunque. Sì, io sono, che di solito mi conoscete non sono mai contento anche quando vinco ma gli avevo detto ragazzi questa settimana dobbiamo vincere tutti i costi, fare 74 punti e arrivare i primi. Noi siamo arrivati i primi come dicevi tu, non andiamo su direttamente per lo scontro diretto ma è qualcosa di impensabile quello che questa squadra ha fatto quest'anno. È logico che c'era molta gente delusa e anche dei giocatori come tifosi però voglio veramente far sì che questa non deve essere una delusione ma una soddisfazione così enorme che ci ha portato a fare un campionato stratosferico a dir poco quindi virtualmente è brutto dirsi ma ci sentiamo vincitori, è brutto perché alla fine conta il campo. Ebbene, si riparte da domenica contro la Juve Stabia e ormai tutte le squadre attrezzate saranno lì e pronte. Ebbene, fare quello che non pensavamo neanche fino a tante giornate fa e quindi poter arrivare oggi a giocarsi la bidiretta o eventualmente i playoff è qualcosa che rimarrà negli annali nella città e nei pensieri di tutti i bassanesi. Una bidiretta che per un'ora era nelle vostre tasche e poi insomma questo gol ha spazzato via tutto, era comprensibile insomma? Ma sì, sai il calcio è bello per questo perché a volte esulti, a volte insomma se tu hai beneficiato di una situazione poi alle volte no. Però con il senno dei poi e dei mai non si va da nessuna parte con delle certezze che si va dalla parte. Le certezze sono Bassano prima in classifica a 74 punti. Lo ritorno a dire, sarò ripetitivo, è vero che poi ci sarà sempre la cosa di dire sì ma non hai vinto il campionato. Va bene, so benissimo ma parliamo di una realtà come il Bassano quindi assolutamente questa città deve essere orgogliosa di questi giocatori, questi giocatori sono orgogliosi di questi tifosi perché insomma oggi c'è stata la ciliegina sulla torta di quanta gente c'era ma io dico che quasi inizio di stagione ad oggi quello che il tifoso ha visto ma soprattutto si è fatto sentire ed era numeroso. Credo che abbiamo vinto tutti ecco, dalla società ai tifosi e a chi lavora per il Bassano, chi ci mette cuore e passione e per tutti gli addetti lavori, questo ci tengo a dire. Un'ultima battuta, tu ormai sei esperto dei play-off quindi insomma può servire da questa esperienza in questo momento? Ma guarda, sì io purtroppo lo sai, da giocatore li ho vinti, da giocatore li ho vinti un paio di volte, da allenatore no però devo essere sincero ci sono tante situazioni che cambiano, che cambiano in che senso? Abbiamo visto adesso quale squadre ci saranno, tutte squadre attrezzate e preparate per fare i play-off, questo non vuol dire che noi non lo eravamo, però è un'incognita, tutto un'incognita sarà, quindi affronteremo già una squadra che l'anno scorso faceva la Serie B, ha fatto una squadra importantissima quest'anno con dei nomi, con dei giocatori, da Di Carmine, Ripa, i due attaccanti, Nick Astro in mezzo al campo come tutti gli altri, quindi assolutamente dobbiamo fare bene, partita secca, lo sappiamo, e resettare in fretta quello che è successo e rimanere col pensiero positivo, perché se ci facciamo portare via dal pensiero negativo di dire abbiamo vinto il campionato e quindi questo è il massimo che abbiamo fatto e allora ho paura che di rincorsa altre mentalmente possano essere favorite, no, no assolutamente no, noi siamo il Bassano, quello l'abbiamo dimostrato in 38 partite e anche in Coppa Italia, ci siamo, ce la vogliamo giocare e lo faremo così fino alla fine. Il piccolo vantaggio è che il Bassano giocherà in casa la prima, insomma, questo è favorevole. Sì, anche se c'è da dire che purtroppo i regolamenti qui li cambiano sempre da un momento all'altro è perché i play-out rimangono con due pareggi ti salvi, cosa che prima era così anche nei play-off, invece adesso è partita secca ma varranno sia i supplementari che i rigori, quindi il vantaggio è giocare, che non è poco davanti al nostro pubblico, però se si ritorna al discorso prima che il vantaggio doveva e poteva essere il fatto di arrivare prima degli altri, avere più punti e valeva il pareggio e i due pareggi in caso appunto di passaggio di turno, eventualmente con due pareggi, questo non succede, però assolutamente nessun alibi, nessuna recriminazione ma solo contentezza e nel preparare questa finale, spero un appello di nuovi tifosi, numerosi come oggi, rumorosi come oggi e pronti sempre a sognare tutti insieme.